Non so cosa cazzo è successo, ho dovuto riavviare il modem, ho dovuto riavviare il computer, ho dovuto riavviare tutto Una volta che uno sta facendo una live fatta bene Buonanotte ogni tanto Devono succedere queste infamità Continuiamo Eravamo rimasti qui, eravamo rimasti qui Mi prendo basculine perché ho anche lui da fare evolvere Tchè guarda che bellezza basculi John di sui Lì è lo 10 Oh, lazza gratuito, bella, sei totale, buonasera, benvenuto Brandifuoco, Primplup, Premura di Comor Tro, De, Tro, Shrumish, Piplup, Tartwig Ah ecco, ecco chi è quella Ma questo mocio lo teniamo un attimo da parte Sneasel, Fiasco Polizza, Reverse Holo Ma a noi delle polizze ce ne frega ben poco La rara, All Creamy, All Creamy, All Creamy Va bene, questo è stato un pacchetto che però ci ha aiutato a fare questa cosa Allora, il fotografo Oltre che a farmi le foto con i personaggi sempre diversi Mi dà anche delle missioni Mi dice, mi porti dei Pokémon e mi fa vedere dei pezzetti dei Pokémon E siamo arrivati qui a un Pokémon che io non capivo chi minchia fosse Mi interessa un Pokémon con delle foglie uguali a quelle che si vedono in questa foto E dico, ma che cazzo è? È lui, è proprio lui, è Tartwig Questo pacchetto mi ha aiutato a risolvere il mistero Ma non so minimamente dove minchia trovarlo La cascata dove sta? Alle pendici del monte Proviamo Alle brutte mi faccio Darkrai Perché mi è spawnato anche Darkrai Mi è spawnato qui in giro Non mi ricordo bene dove Cioè mi si è triggerato l'evento Però non lo volevo fare offline Mi sa che sta qui comunque Sta qui sotto Eccolo Dove è? Sei andato? Mi sta più in giro? Lui sa che io sono qui Lui sa che io sono qui Ah, eccolo Bella per te Preso da dietro Darkrai Di sorpresa Diello 70 Cattivissimo Ok, non gli faccio un cazzo Molto bene Adesso lui sicuramente mi farà un c***o Come in secchio Però è così sorpreso Come riesce a muoversi Quindi io gliene faccio un'altra normale Madonna, ancora sorpreso Quindi lo posso acchiappare subito Preso Darkrai Adesso diritti alla cooperità Io ho paura di star sottovalutando Il nemico Perché ho solamente Praticamente Tre Pokémon boni Eccolo qua Nesprit Diello 70 Mi sa che Mi sa che non gliela faccio Con tre Pokémon solo Può accompagnare solo Bene, bene, bene Giallo Nooo Bastardo Ha fatto ripresa E lui usa ripresa E io gliela rifaccio Lui usa ripresa Piano piano gli levo Un cicinin di vita Mi servirebbe una mossa rapida Che mi fa attaccare due volte Tecnica rapida Cazzarola Ok No Mamma mia Sono vivo Sono vivo Niente Qua le tecniche rapide Non mi aiutano Quindi io Io ce provo Mamma mia Non voglio guardare Vai E andiamo Questo click Quanto mi piace Mesprit preso Masso Geridos Agliello 53 Scusa Zì Scusa Scusa Manfre Official Bella Grande Sei totale Mi fai sbustare Un altro pacchetto Sono molto contento Di questa cosa Benvenuto Adesso mi sbusto Archeos Perché siamo in tema Starmi Set di acqua fresca Corpish Gollet Cimchar Ci siamo Ci siamo Ci siamo Siamo agli sgoccioli Del pacchetto Mincino Stiamo tra una marea Baltoi Ok Mancano le ultime due carte Una Reverso Olo Farfetch Bello Quest'artwork Figo A questo punto Sotto c'è qualcosa Sotto c'è qualcosa Ha visto che Manfre Ha visto che Manfre La s'allunga Sotto c'è qualcosa Ragazzi C'è una roba Molto 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 Bella Madonna Quanto brilla Ragazzi Che sia una rara segreta Ragazzi Pacchetto di Archeos Si trova Archeos Mamma mia Archeos Viastro Guarda che robetta Incredibile Quanto cazzo è bello Ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamfre Ma sei un grande Mamma mia Che robetta Questa è delicatissima Grazie Grazie Per averci fatto Sbustare questo Pacchetto Con l'art Di Archeos E si trova Archeos Cioè Guardalo quello Mo lo andamo a catturare Zaffex Guarda che te Guarda che te Guarda che te combino Sto camminando Sull'acqua Ed è così Che mi piace È così Brava Zaffex A difesa Della fiammella Stava Ma Ha avuto la peggio Sligu Oh guarda che c'è Guarda che c'è Guarda che c'è Che carini No cazzo È scappato Mi ha messo paura Preso Alla fine L'abbiamo trovati E a questo punto Posso anche fare La missione Del Del fotografo Eccolo Scatti misteriosi Lungo il fiume Sta live è stata Molto 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 Proficua E io direi che domani Sempre alla stessa ora Io vado avanti Amici miei Perché questa è una missione Che bisogna chiudere Nel più breve Tempo possibile Per poter poi Giocare finalmente A Kirby E la terra perduta Però vorrei prima Cercare di chiudere Pokemon E sbustare Sempre come i pazzi Quindi Grazie per oggi Grazie per tutti I follow Che mi avete dato Che mi avete Regalato E mi avete permesso Di sbustare E trovare Delle cose Molto Molto succulente Io direi Ci vediamo domani